In piazza degli Aceri a Ciconia, resa più bella da tante luminarie, oggi 22 dicembre 2012 si festeggia Babbo Natale. Sì, l'associazione culturale Ciconia Viva, costituitasi da qualche anno dopo la inaugurazione della piazza, che è l'unica piazza di Ciconia, e intorno alla quale si è formato tanto campanilismo da spingere gli abitanti di Ciconia, specialmente quelli ad essa prospicenti, a costituire un'associazione aperta a tutti che la renda sede di manifestazione in certi momenti dell'anno. Quella più nota è la festa di finestra, quest'anno per la prima volta anche questa di Natale. Intanto sulla piazza è stato allestito un gazebo, dove si possono gustare delle squisitezze, come le sciambelle fritte, tè caldo e vin brulee. Ecco, vediamo il gazebo con tanti organizzatori a distribuire queste squisitezze. La piazza intanto si sta riempendo di folle. I tanti bambini intervenuti e tanti genitori e nonni si stanno divertendo con lo spettacolo di un artista di strada. Più tardi arriverà Babbo Natale, che raccoglierà le lettere di richiesta regale da tutti loro e distribuirà a tutti un omaggio. Agli organizzatori vado un bravo e buon divertimento a tutti presenti. Allora, signori e signori, io mi chiamo Godier, sono un artista di strada e vado a cominciare il mio spettacolo. Però per cominciare il mio spettacolo mi serve un grandissimo applauso. Dopo questo applauso io ne vado a casa, i miei figli. No, va bene così, che dite, lo comincio? Sì! Lo comincio? Sì! Chi è che ha detto no? Chi è? Stato lui? Ma guarda che sia proprio un dispettoso, è. Allora, vediamo un po'. Mi sarà buonissimo. Allora, vediamo un po' 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 Adesso è la cosa più pericolosa di prima. Sì! Ma le fate sposti! Se disposti ti do un cassotto sul tasto che lo tratterei come con le binoche! Ma io ti desco l'ore! Lascia la corda! Saga? Ha visto che mi sono fatto male? Davide lascia la corda, vieni qua! Ha visto che mi sono fatto tanto male? Questo numero non ce l'ha a concludere! Un applauso all'Arensa e Davide! Un bell'icchino! Scambialo con lei! Guardiamo il pubblico! Guardiamo il pubblico! Non so, è un giro! Grazie! Oh! Guardiamo il pubblico! Guardiamo il pubblico! Un'altra cosa è la sua! Ma passate, perché... Fa bene, ho capito. Signori e signori, voi lo vedete bello così, ma adesso diventerà più bello. Vi presento il clown Lorenzo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.